Suits è stato finalmente rovesciato nelle classifiche di streaming dopo che lo spettacolo ha avuto un successo di ascolti. Il dramma romantico di Netflix Virgin River ha conquistato il primo posto, eliminando il potente dramma legale statunitense Suits, dopo essere stato lo spettacolo numero uno in streaming negli Stati Uniti per 12 settimane consecutive. Suits, che fino ad oggi è stato il ruolo televisivo più importante di Meghan Markle dopo parti minori, ha affascinato gli spettatori per quasi tre settimane con la sua serie ininterrotta. Secondo la società di rating Nielsen, lo spettacolo è stato costantemente in cima alle classifiche di streaming Nielsen, respingendo la concorrenza di nuovi spettacoli come la quinta stagione di Virgin River e Disney+, e la serie di Star Wars Asoka, e battendo record. Anche se Suits è finito al secondo posto, lo spettacolo ha comunque raccolto 1,9 miliardi di minuti di visualizzazione, sulle piattaforme di streaming, Netflix e Peacock. Virgin River ora regna in contrastato con 2,1 miliardi di minuti, e ha trascorso la quinta settimana nella top 10 delle classifiche di Netflix. Suits ha iniziato il suo potente regno nella settimana dall'11 al 19 settembre, quando è stato incoronato lo spettacolo più visto. Anche se Suits potrebbe essere stato spinto fuori dal suo piedistallo, gli ascolti positivi in streaming hanno spinto una nuova serie su NBC Universal, secondo Deadline. L'outlet ha riferito che il creatore di Suits, Aaron Korsh, è ora impegnato a lavorare su un ramo di Suits. Ma giusto per essere chiari, questo non sarebbe un riavvio o un revival, ma piuttosto uno spettacolo completamente nuovo, più sulla scia dei franchise NCIS o CSI. La nuova serie proposta presenterebbe nuovi personaggi e una nuova location. Secondo le fonti, Suits ha avuto uno spin-off sotto forma di Pearson con Gina Torres, con il suo personaggio che ha iniziato ad avere la sua serie. Purtroppo, Pearson è rimasto sugli schermi solo per una stagione prima di essere eliminato.